Weee, bentornati su un uomo mammazzo, bentornati nella playlist Dylan Dogg e nel video di oggi parleremo dei padroni del nulla. Prima di cominciare vi ricordo sempre iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri delle altre playlist, andateli a vedere, non soffermatevi a Dylan Dogg, condividete il video con tutte le persone che amano Pulcinella e commentate qui sotto con quello che ne pensate di questo numero, iscrivetevi anche agli altri miei social, mi raccomando, in particolar modo Instagram, così potete seguirmi su tutto quello che faccio anche sugli altri social. Dylan Dogg, i padroni del nulla, un numero scritto, diretto, interpretato, un numero il cui soggetto la sceneggiatura e i disegni stessi sono di Carlo Ambrosini, quindi è un'opera tutta nata dalla mente di questo autore, che ha un tratto di disegno davvero fantastico, che si sposa benissimo con questa storia, che è molto onirica. Vorrei potervi dire che mi ha ricordato uno dei famosissimi primi cento numeri di Dylan Dogg, ma in realtà il Dylan Dogg un pochino onirico è arrivato dopo. Diciamo che i primi cento erano più o meno scanditi da delle scene splatter, che qui invece non ci sono, qui c'è molta oniricità, se così si può dire, cioè c'è molto sogno, si mischia la realtà con i sogni. Noi stessi non riusciamo a capire all'inizio Dylan Dogg se si sta trovando in un suo sogno, in un suo incubo, se sta vivendo realmente questa storia, finché piano piano lo sceneggiatore stesso ci fa un pochino capire a cosa stiamo assistendo. Se avete seguito gli altri miei video, le altre collaborazioni con Luca DJ, sapete che non abbiamo apprezzato il ciclo di tre numeri dedicato a Mana Cerace, perché era palesemente riciclato da quella che doveva essere una storia di Dylan pre-Meteora, pre-ciclo 666, o più semplicemente parlando di Dylan Dogg Old Boy. Qui non so se abbiamo assistito alla stessa operazione, ma se così fosse è sicuramente un'operazione fatta meglio, un'operazione ben riuscita, perché i personaggi nuovi, in particolare il personaggio di Rania, sono stati inseriti molto bene nella storia, sono stati inseriti in modo funzionale alla storia, funzionale anche al finale stesso della storia. Quindi o la storia è stata scritta apposta per questo Dylan post-Meteora, o sicuramente comunque non è stato scritto per l'Old Boy, da qui la presenza di Rania, che comunque c'era anche prima del ciclo 666. Abbiamo un buon utilizzo anche di Graucio, finalmente, di cui io oggi vesto i panni per due ragioni. Una, non avevo voglia di tagliarmi i baffi, perché mi serviranno per un altro video, poi vedrete. E due, il fatto che comunque questo numero è dedicato, diciamo, non il numero, la copertina più che altro, in vista anche del febbraio che arriva, è dedicato un po' il richiamo, un po' il carnevale, e quindi invece di vestirmi come faccio sempre da Dylan Dogg, mi sono vestito da un personaggio molto più pulcinellante che è appunto Graucio, l'assistente di Dylan Dogg. Dicevo che il personaggio di Graucio è stato usato molto bene, nel senso che non abbiamo delle battute stupide fine a se stesse, no? Che fanno il giro. Vediamo un Graucio che discute con Dylan Dogg, quando all'inizio sono in panne con la macchina, quindi non è un grosso spoiler, vi sto raccontando proprio le prime pagine, all'inizio sono in panne con la macchina, tanto per cambiare, e li vediamo discutere come due persone quasi normali. Poi sì, Dylan Dogg, scusate, Graucio è comunque il solito burlone, ma è inserito nel contesto e parla con gli altri personaggi in modo da sembrare una persona normale. Successivamente nella storia ha un paio di scene in solitaria, dove interagisce con le persone attorno a lui e ha anche, diciamo, un paio, chiamiamole un paio di scene umoristiche, sì, ma anche d'azione che centrano un pochino anche con la trama. Quindi benvenga un utilizzo di Graucio in questo modo, un Graucio attivo, un Graucio personaggio che si sente, che un personaggio che se tu lo togliessi con la gomma si sentirebbe la mancanza. Non una costante ombra di Dylan Dogg che fa battute a caso, che potrebbe tranquillamente non esserci, o peggio ancora un personaggio che si vede all'inizio della storia, quando il cliente di turno viene a ingaggiare Dylan Dogg, per poi sparire totalmente. Ecco, questo utilizzo di Graucio a me non piace, mi piace questo utilizzo di Graucio, un Graucio attivo, presente. Non dico che deve essere sempre così presente, però preferirei che la maggioranza delle storie sia fatta così. Entriamo un pochino nello spoiler, perché come dice Recchioni stesso nella seconda di copertina, non è possibile parlare di questa storia senza fare un po' di spoiler. E io un po' di spoiler lo voglio fare. Allora, in queste scene oniriche di questo fumetto, vediamo la figura di Pulcinella. Pulcinella, la figura di Pulcinella è anche la figura di Arlecchino, che non viene mai chiamato per nome, viene sempre chiamato lo scurnacchiato da Pulcinella stesso, ovviamente, perché c'è questa rivalità tra Arlecchino e Pulcinella, dove però vediamo in un certo senso Pulcinella come essere buono e Arlecchino essere invece cattivo, essere un servo del diavolo stesso. Mentre Pulcinella, che non è certamente un angelo, è un diavoletto anche lui, si definisce anche lui comunque non un buono, ma figlio di un diavolo minore, diciamo. Quindi è una persona, l'incarnazione di Pulcinella stesso, che rappresenta un po' l'arrangiarsi, un po' anche di fronte alle grandi tematiche della vita, un po' anche il fregarsene, il vivere alla giornata. Qui è rappresentato molto bene, e c'è anche un bel concetto che magari poi espandiamo, di come vivere come Pulcinella sarebbe molto meglio per l'umanità stessa. Vediamo quindi come l'entità di Pulcinella protegga questa famiglia, questa famiglia Gozzi, che è una famiglia veneta, e lì per lì ho detto, ma c'è qualche cosa che non va, perché associano il Veneto a Pulcinella e non a Arlecchino? Mi sembrava quasi un errore, però non è un errore che può essere fatto da un autore italiano, può essere fatto da un autore americano, che pensa che l'Italia sia piccola così, è vero, è piccola così, e che quindi sia tutto un gran calderone, però da un autore italiano mi aspetto che sappia che in Veneto, nella mia stessa provincia di Bergamo, ci sia Arlecchino, perché una volta appunto Bergamo era sotto la Repubblica di Venezia, piccola parentesi, e che al sud, in Campania, a Napoli, ci sia Pulcinella, invece qua poi mano a mano lo spiegano come Arlecchino sia servo del padrone, il padrone in questo caso è il male, il demonio, mentre Pulcinella cerca, nel suo essere un demonio minore, di proteggere questa casata, la casata dei Gozzi e i bambini che nasceranno, i bambini che nasceranno, che non devono cadere nelle mani del male di Arlecchino. Tutte le scene oniriche ambientate in questo strano sogno da sveglio che sta facendo una parte della coscienza di Dylan Dog, a quanto capiamo, tempestate di questi vari Pulcinella che infestano questa sala dove c'è questa specie di veglia funebre del padre e della protagonista femminile, sono davvero esilaranti. è bello vedere interagire Dylan con i vari Pulcinella che fanno delle cose assurde e surreali e tutti i balloon di questi vari Pulcinella che interagiscono con Dylan Dog io li ho letti in un marcato accento napoletano, anche perché il balloon stesso è scritto in modo tale da condurti a fartelo leggere in questo modo. Io nella mia testa sentivo questo marcato accento napoletano, mi sono venuto in mente un paio di personaggi del film Labyrinth, che è un film americano, ma nel doppiaggio italiano ci sono un paio di personaggi che sono stati doppiati con questo forte accento napoletano, con questo anche modo di fare molto alla Pulcinella, che nella mia testa ho ridato voce a questi Pulcinella con queste voci che io ho memorizzato da questo film che io adoro. Aspettano un momento, ma è vero? Vuoi sapere la verità? Io non ci ho mai capito niente. Ve lo metto in descrizione questo film Labyrinth, lo trovate nei miei link Amazon che potete acquistare, e vi metto anche tutti i vari riferimenti che ho trovato. Un altro riferimento che è palese, è un omaggio alla musicista Nina Simone, che io non conoscevo, quindi anche grazie al fumetto si espande la cultura di altre discipline, di altre arti, quindi grazie a Carlo Ambrosini io appunto ho conosciuto questa Nina Simone, magari mi metto sotto in descrizione qualche album. Vediamo come Nina Simone è sempre accompagnata da questo arlecchino silenzioso, perché lei, come lei stessa dice, si è sempre portata dietro sia il paradiso che l'inferno, e a un certo punto ha dovuto scegliere. E quando passi tutta la vita a voler uccidere tutti gli schiavisti bianchi, americani, non puoi andare in paradiso, e quindi è sempre accompagnata da arlecchino che appunto rappresenta l'inferno. In uno di questi numerosi dialoghi con i vari Pulcinella, appunto Dylan Dogg tira fuori tutta la sua nordicità, il suo essere è stato creato da Tiziano Sclavi, che è palesemente del nord, e che condanna quasi in una frase Pulcinella, dicendo, ah, bel modo di vivere il vostro, così, alla giornata, fregandovene di tutto e di tutti. E qua Pulcinella fa un discorso a Dylan che dice, sì, può essere, però cosa ci ha portato in tutta la storia del mondo a essere, a seguire i condottieri, a seguire i capi di stato, a seguire i potenti, a seguire anche i grandi poeti, a cosa ci ha portato? Il mondo fa ancora schifo come tantissimo tempo fa, ci sono ancora le guerre, ci si ammazza ancora, e poi qua, infatti, questo discorso si lega molto alla parte che c'è fuori dal sogno nel finale, nel terzo atto di questo numero. Quindi ci mostra come il mondo faccia ancora schifo dopo tanti anni in cui si segue un padrone, si segue qualcuno, qualche cosa di importante. Forse il vero modo di vivere sarebbe quello di Pulcinella, cioè bisognerebbe, Pulcinella dice, dare una spazzata, un colpo di spugna a come concepiamo questo mondo in modo molto serio, molto in cui seguiamo, diciamo, delle filosofie importanti e vivere un po' tutti, un po' di più come Pulcinella, un po' di più fregandosene, un po' di più magari buttandola tutta in battuta. E questo comunque è un discorso molto interessante che io trovo anche molto legato a come vivo io, nel senso che non c'è qualcosa di troppo serio per cui non ci si possa scherzare, perché se diventa un tabù scherzare su qualcosa, a quel qualcosa gli si dà potere, gli si dà riverenza, gli si dà un'aura di sacro e dietro a queste cose la gente ammazza, la gente muore, la gente viene uccisa e queste cose nel 2020 dovrebbero non essere così, diciamo, fanatiche. Quindi una battuta ci salverà, ovviamente sempre nel rispetto del prossimo, sempre nel rispetto della sensibilità. Altrui, chiaramente, non si deve offendere la sensibilità delle persone che non sono ancora, diciamo, pronte a scherzare su tutto o che magari stanno vivendo un momento in cui non si può scherzare su certe cose inseguendo questo mito di Pulcinella di scherzare su ogni cosa in modo pesante. No, bisogna essere rispettosi, ma detto questo, nel proprio, nel rispetto che spero ognuno abbia imparato crescendo, è giusto poter scherzare su qualunque cosa. Che dire, un numero che mi ha davvero spiazzato, un numero davvero bello, se si inizia l'anno così si inizia alla grande, mi ha spiazzato perché già avevamo visto nell'Old Boy, nel mio video sull'Old Boy scorso, che l'Old Boy sta facendo dei temi stagionali ogni due mesi. Il prossimo tema sarà San Valentino. Io pensavo appunto che il tema fosse il Carnevale, ho detto, ah no, è San Valentino, però hanno messo questa copertina e ho detto, cavoli, iniziano pure nella serie regolare a fare il tema stagionale, quindi nella serie regolare c'è il Carnevale, nella serie Old Boy c'è San Valentino e magari continueranno così. Invece devo dire che nonostante la copertina che comunque omaggia Arlecchino e le varie maschere, perché i flashback della storia di questa famiglia dei nobili gozzi sono ambientati a Venezia, che è famosa per le maschere, per il Carnevale di Venezia, ma a parte questo non si entra proprio in un tema carnevalesco, diciamo. Se lo fa, lo fa in modo molto sottile e questo va molto bene, cioè non ho sentito un episodio di Carnevale leggendo questo numero, ho sentito tutt'altro, quindi sono stato felice di essere stato stravolto e sorpreso da questo numero. C'è un'altra cosa che mi è piaciuta molto, che se davvero prendono questa piega i numeri di Dylan Dogg, sarà sempre più delizioso leggere le varie collane. Dylan Dogg, che è inglese, inglese, quindi conosce Pulcinella per via indiretta, per spiegare a un'altra ragazza inglese chi è Pulcinella, dice ah sì, è la versione italiana di Mr. Punch. Chi sarà questo Mr. Punch? Ragazzi, lo scopriremo nel prossimo Color Fest, che si chiama proprio Mr. Punch. Quindi questo numero di Dylan Dogg ha dato il gancio al prossimo Color Fest, che uscirà a giorni, perché febbraio sarà pieno, anche nel mio canale sarà pieno di recensioni di Dylan Dogg, perché, vabbè, questo è fine gennaio, poi ci sarà il Color Fest, ci sarà l'Old Boy, poi ci sarà la mia rubrica nuova in cui parlerò di vecchi numeri di Dylan Dogg, ci sarà tante, e poi ovviamente ci sarà il numero che uscirà a fine febbraio, quindi ci sarà tanta carne al fuoco per quanto riguarda Dylan nel mio canale, sono molto contento di questo. Un'ultima nota, parliamo del prossimo numero, che si chiama Giochi Innocenti, e qua c'è già un trafiletto in cui spiega che, allora, leggo, per ritrovare una bambina scomparsa nel nulla, Dylan deve indagare su quelli che soltanto in apparenza possono considerare, si possono considerare giochi innocenti, quindi probabilmente il prossimo numero sarà dedicato a TikTok, ovviamente, è una provocazione la mia, però, sapete di cosa sto parlando. Io, sono contento che mi abbiate seguito fino a qui, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video, state sintonizzati, stay tuned perché tra qualche giorno se non già domani uscirà anche la recensione di Samuel Stern. Arrivederci.